Ciao a tutti, oggi vi insegnerò a creare un motivo ripetibile partendo comunque da dei disegni fatti a mano e quindi poi importati nel computer tramite uno scanner o una macchina fotografica. Tutto questo appunto utilizzando Gimp, che io per anni ho chiamato Gimp ma in realtà è Gimp, che è questo programma open source simile a Photoshop. Allora, partiamo subito con l'aprire il file che io in questo caso ho scansionato col mio scanner. Allora, la prima cosa che dovete fare quando aprite il vostro file è accertarvi della sua grandezza, delle sue dimensioni, della sua risoluzione. Allora, andiamo su immagine, scala immagine e scopriamo queste notizie riguardanti il nostro file. Allora, questo file che io ho scansionato, appunto sono stata attenta a scansionarlo a un'alta risoluzione. Voi dovete controllare di avere almeno 150 dpi qua come risoluzione, perché altrimenti in stampa il vostro disegno risulterà sgranato. Quindi dovete lavorare su una risoluzione alta, quindi state attenti sia quando fate le foto che la risoluzione diciamo sia decente. Potete quindi andare intanto qua a modificarla eventualmente. Io di solito lavoro a 300 dpi, che è la risoluzione migliore per la stampa. Però, appunto, nel caso di file di dimensioni molto grandi e appunto per quanto riguarda Spoonflower, si possono caricare comunque immagini anche di una risoluzione un po' più bassa, fino appunto a 150 dpi. Qui larghezza e altezza sono espresse in pixel, ma ovviamente voi potete guardare anche che centimetri sono, o se avete un punto o pollici, insomma, potete cambiare l'unità di misura. Va bene. Altra cosa importante da controllare è se la vostra immagine è in scala di grigi, allora dovete andare su immagine modalità, dovete controllare se è in scala di grigi oppure a colori. Perché io, per esempio, ho scansionato in scala di grigi, però se voi voleste andare a lavorare con il colore su questa immagine, dovete appunto cambiare e mettere RGB, come ho fatto io adesso. Ok. Altra cosa importante da fare adesso sarà quella di modificare il livello su cui stiamo lavorando. Cosa vuol dire? Allora, se non vi si apre in automatico, andate a recuperarvi la finestra, che è qui in pannelli agganciabili, la finestra dei livelli. Eccola qua, scusate, ecco. Perché noi lavoreremo su diversi livelli? Allora, questo livello che vi si apre in automatico, di solito è un livello che ha incorporato uno sfondo. Che vuol dire? Vuol dire che se io vado a cancellare, non ottengo la trasparenza del foglio. Cioè, se io metto non visibile il mio livello adesso, sotto io ho il nulla, appunto. Io voglio lavorare sempre su livelli dove se vado a cancellare, questa è una gomma da cancellare, mi si vede la trasparenza, non mi si vede un colore di fondo. Vedete? Qua risulta appunto il colore di fondo rosso. E appunto, se è blu, quando vado a cancellare, no, no, non è blu, perché ho messo come questo azzurrino, come primo piano. Se lo sfondo è azzurrino, quando vado a fare così, vedete, mi compare questo sfondo. Appunto, questo non è un livello, è un livello che ha incorporato lo sfondo. Come faccio invece a fare in modo appunto di poter tagliare e ottenere la trasparenza? Allora, vado a selezionare tutto e poi gli dico copia, incolla, attenzione, qui a nuovo livello. Allora, sulla finestra livelli, appunto, quando io gli ho detto di incollare al suo nuovo livello, lui mi ha incollato, quindi l'immagine che ha copiato, su questo nuovo livello. Ora, quello vecchio lo potete andare a buttare e adesso, se voi mettete in un visibile il nuovo livello che avete creato, vedete che abbiamo appunto, sì, abbiamo la trasparenza, no, questo non vuol dire, c'era anche prima. Se voi adesso andate a cancellare, ecco questo che volevo dimostrarvi, avete effettivamente la trasparenza. Oh, adesso siamo su un livello che funziona come voglio io. E adesso cosa faremo? Va bene, io di solito, se lavorate appunto in bianco e nero a inchiostro come me, vi consiglio di aumentare un pochino il contrasto qui. Quindi andate su colori, luminosità, contrasto, aumentate un pochino il contrasto del bianco-nero, perché poi in fase di colorazione, quando dovete andare, se voleste insomma poi colorare digitalmente le vostre immagini, è meglio avere un contrasto un po' più forte. Ora, andrò finalmente a tagliarmi via tutto questo bianco, utilizzando lo strumento Seleziona per colore, che è questo qui. Quindi io clicco qua. Ah, vi dico anche una cosa di questo strumento. Vedete, c'è una soglia. Cioè, se voi l'aumentate, aumentano, diciamo, perché c'è sempre un pochino di anti-alias. Che cosa è l'anti-alias? Cioè, se voi andate a vedere da vicino la vostra immagine, vedete, non è proprio un nero a contrasto col bianco, c'è sempre un pochino di sfumatura comunque, vedete? Questo appunto si chiama anche l'anti-alias. Allora, più, quando voi andate a selezionare il bianco, con questo strumento cromatico, se qui aumentate la soglia, lui acchiapperà, diciamo, più grigio. Va bene? Vi farà un taglio più netto. Se invece la riducete, meno netto. Quindi sapete che potete anche modificare un po' la soglia, che di base è messa sul 15, ma noi adesso lasciamo così, ci va benissimo così, per i nostri scopi. E, appunto, selezioniamo tutto col nostro strumento cromatico e gli diciamo, appunto, taglia. Oh, finalmente, vedete, noi abbiamo uno sfondo trasparente. Adesso gli dico, seleziona niente. Ora, su questo livello... Ovviamente non dovremo lavorare adesso con lo sfondo così grigio. Io vi consiglio adesso, finalmente, di crearvi un nuovo livello, che sarà il nostro sfondo bianco, che metteremo, ovviamente, sotto. Quindi qua gli dico, vai a invertirmelo sotto. Si può anche fare a mano, diciamo, spostarli così livelli, se no usate queste freccette. Allora, riduco un po' le dimensioni per farvi vedere bene il mio file. Allora, finalmente, io ho quindi uno sfondo bianco e le mie figurine, che invece sono come su un foglio trasparente. Si lavora meglio proprio nel selezionarle, copiarle, incollarle, in questo modo. Adesso, quando lavorate, state attenti sempre su quale livello siete, perché, appunto, se adesso io voglio andare, per esempio, a copiare e incollare una delle mie figurette, devo stare sul livello dove sono le figurette, ok? Adesso, un'altra cosa importante che voglio fare, voglio che questo sia un quadrato, perché in realtà io non ho scansionato, appunto, un'immagine regolare, quadratissima. Quindi, tornando su... No, non dobbiamo andare su scala immagine, dobbiamo andare su dimensione superficie. Noi gli diciamo adesso che vogliamo che sia... Per esempio, in questo caso io farò 1600, voglio un numero comodo da dividere a metà dopo, perché dopo... Aiuto! Aspetta. Qua potete bloccare le proporzioni, se adesso non adesso, perché lo scambiate. Se vi serve, potete bloccare le proporzioni. In questo caso, a me non voglio bloccare le proporzioni, voglio che lui me lo tagli e proprio 1600 per 1600. Gli diciamo, magari c'entra il disegno, in modo che lui ritagli appunto tutto attorno e non mi tagli via pezzi dei miei disegni. A questo punto, gli dico appunto, ridimensiona. Ecco qua. Me l'ha ridimensionato. Vedete che qua c'è una... c'è una linea tratteggiata, perché comunque il livello su cui stavamo lavorando è rimasto grande. Cioè, lui ha ritagliato l'immagine, però quel livello è rimasto grande. E forse anche... anche questo, tutti e due. Allora voi dovete andare a dirgli adesso, a tutti i livelli, che sono a dimensione immagine. Ok? I livelli devono essere sempre a dimensione immagine. Vedete, adesso il tratteggiato è qua. Finalmente noi abbiamo il file come lo vogliamo, della dimensione giusta, quadrato, perché per creare un motivo ripetibile dobbiamo averlo quadrato, se vi va più comodi. E la prima cosa che vi insegno, adesso andiamo sul livello dove ci sono i disegnini, vedete, e cominciamo a copiare e incollare alcune immaginine. Per esempio, prendo il gattino, ok? Allora, io lo sto selezionando con lo strumento lazzo. E se voi non avete la tavoletta grafica e fate fatica a fare questa forma, in realtà lo strumento lazzo ha una tecnica, vedete, per esempio così anche potete selezionare, cioè a puntini, e quindi anche fermandovi, cliccando ogni volta. E quindi è abbastanza comodo da utilizzare anche con, insomma, anche se non avete una tavoletta grafica. Ecco, adesso io sono con la tavoletta grafica e invece ho selezionato malissimo. Allora, va bene, mi seleziono il gattino, senza preoccuparmi del bianco perché tanto il bianco non c'è, vedete, quindi adesso quando gli dico copia, incolla, in realtà lui mi ha copiato e incollato solo il nero, vedete? E infatti sotto si vede in trasparenza quello che c'è, le altre cose si vedono in trasparenza. Ok, questo gattino, per esempio, adesso io lo voglio mettere qui, però vedete che non mi entra, quindi lo ruoto, va bene, perché tanto un pattern e i personaggi possono essere anche messi un po' storti, e lo metto qua così, vediamo se ci sta, o così me lo metto sto gattino. Ok, poi per esempio, prendiamo un'altra cosa, per esempio il riccio, mi seleziono il riccio, ok, faccio copia, incolla, e il riccio me lo ribalto, con questo strumento qua ribalta, in modo da non avere i ricci tutti nella stessa dimensione, insomma, rivolti dalla stessa parte, e lo metto qua, ok, allora cerchiamo di andare a coprire un po' le varie parti, prendo per esempio questa foglia, ok, e la copio, e la incollo di nuovo anche lei, e poi posso appunto spostarla, quando la sposto, vedete, utilizzo questo strumento qua, la sposto, e me la metto per esempio qui, ok, e così, adesso, prendo questa ghiandina, la copio, stiamo facendo sempre la stessa cosa, la incollo, potete anche andare a aumentare, ridurre di dimensione le vostre immagini, volendo, e l'ancoro, cioè quando io l'ho deciso il posto, clicco e lei si ancora sul livello, e credo che se dico incollo, me ne incolla, vedete subito un'altra, per esempio se la voglio mettere qua, ok, e la ancora, adesso, io ho riempito abbastanza, potreste andare a riempire ulteriormente, ma diciamo, la cosa importante è che andate a riempire, eh, scusia, a riempire, a riempire, diciamo, lungo queste linee, dove noi andremo a tagliare l'immagine, adesso, cosa facciamo, la prima cosa da fare è, duplicare questo livello, così ne abbiamo ben due, ok, sono due, allora, uno, questo sotto lo possiamo lasciare anche per ora, dalla trasparente che non lo vediamo, e lavoriamo su questo sopra, questo sopra adesso, noi lo andiamo a tagliare, proprio come avevamo fatto manualmente, nel mio tutorial in cui io spiegavo come si creano i pattern, anche a mano ritagliando un foglio, quindi i pattern ripetibili, andiamo sul livello, trasforma, spostamento, allora, qui noi dobbiamo fare appunto uno spostamento di x e y, lui ci farà questo lavoro che avevo fatto io a mano nell'altro tutorial, voi qui che numeri dovete inserire? la metà di quello che è la dimensione in pixel del vostro file, che vedete qua sopra c'è scritto 1600x1600, quindi io andrò a scrivere qua 800, vedete fare la metà, ok, per 800, ecco qua, gli dico scostamento, e lui cosa ha fatto? aspettate che zoom un po' più, riduco un po' l'immagine così si vede bene, lui proprio ha fatto quel lavoro che ho fatto a mano nell'altro tutorial, ritaglia l'immagine, inverte i vari pezzi, adesso cosa succede? vedete questo gattino va a ricombasciare con questo, ho creato un pattern ripetibile, che però ovviamente adesso devo andare a riempire qua, io metto visibile l'altro livello che avevo conservato, e diciamo che il mio pattern è già sostanzialmente fatto, ho ancora da andare a riempire qualche buchetto, quindi mi metto attenzione su quale livello siete, quando andate a copiare e incollare le cose, prendo per esempio una foglia, la copio, la incollo, e la vado a mettere per esempio qua, perché qua c'è troppo buco, oddio qua in realtà adesso ho anche fatto un errore, perché ho selezionato un pochino di gattino, comunque vabbè, ecco, ancoro, qui ho fatto un errore, perché io ho selezionato un pochino qua del gattino, però lo possiamo sempre cancellare, magari, dov'è il mio, aspettate che ho le finestre messe giù, con lo strumento pennell, gomma, vado a cancellarmi, riduco un po' la risoluzione, posso andare a cancellare, se faccio qualche piccolo errore, va bene? Ecco, allora, torniamo alle dimensioni più piccole, ecco, diciamo che io adesso ho creato il motivo ripetibile, voi potete tranquillamente andare a riempire ulteriormente, vi consiglio sempre, quando fate dei pattern, create anche degli oggettini molto piccoli, che vi aiutino a riempire se rimangono dei buchi, per esempio, questa ghiandina, io adesso addirittura posso copiarla, e poi invece che copiarla e incollarla di continuo, vado su pennello, l'ultima cosa che avete copiato, vi risulterà come pennello qui, vedete? Potete anche scegliere le dimensioni, fare una ghianda più piccola o più grande, poi non mettete, qua vi conviene mettere le, o dynamics off, che non sente la pressione, perché io, vabbè, ho la tavoletta grafica, quindi lui percepisce la pressione, quindi fa più o meno chiaro, ma invece mettete track direction, track direction è carino, perché lui praticamente varia, vedete, l'inclinazione della mia ghiandina, quindi ve la mette un po' più varia, ecco così, ecco il nostro, il nostro motivo è perfetto, è ripetibile, adesso l'ultima cosa che voglio fare, se ce la faccio, fondiamo tutto qua, adesso, è dimostrarvi la ripetibilità, quindi io, mi seleziono, anzi no, lo riduco un attimo, scusate, per farvi vedere questa cosa qua, scala immagine, in modo da poter aprire un file non troppo grande, scala, seleziona tutto, copia, incolla come nuovo motivo, va bene, allora, quando vi scrivete nuovo motivo, qua ci scrivete il mio pattern, il mio, vabbè, insomma, il nome che gli volete dare, ok, cosa succede, che voi avete creato un motivo ripetibile, che potete utilizzare, su delle immagini, qua di, di Gimp, quindi se io adesso mi vado ad aprire, un nuovo file, e per mostrarvi, prendo un bel file grande, una 4, cioè un foglio a 4, in alta risoluzione, che ovviamente me l'ho aperto, con lo sfondo azzurro, perché avevamo lasciato lo sfondo azzurro, ma non importa, adesso noi gli andiamo a dire, riempi con il motivo, dovrebbe riempire, ecco qua, col motivo nostro, che abbiamo creato, vedete, ed è ripetibilissimo, vedete che, che combaciano benissimo i pezzi, con questo è tutto, spero di essere stata chiara, e buon divertimento a tutti.